Siamo qua nel contesto di Santa Chiara, per domani l'apertura del centro vaccinale messo a disposizione i locali dal comune, dall'amministrazione comunale. Grande collaborazione con l'ASL per procedere alla campagna di vaccinazione in un luogo conosciuto dai vercellesi, caro ai vercellesi, comodo, centrale. Verranno prese delle modifiche che intendo già comunicare, la viabilità della via sarà posto un senso unico con la possibilità quindi di usufruire i parcheggi da entrambi i lati della strada, con direzione da Corso Palestro verso la Caserma Garrone, verso il centro città e altrettanto vengono messe a disposizione dei cittadini delle misure di aiuto per agevolare la campagna vaccinale. Ho sentito l'organizzazione dei tassisti e quindi l'amministrazione comunale metterà a disposizione delle persone anziane la corsa che grazie alla collaborazione dei tassisti verrà eseguita a favore delle persone anziane che mostreranno la prenotazione per la vaccinazione. Quindi un modo anche per alleggerire la viabilità cittadina ma soprattutto per essere vicino alle persone che hanno delle necessità di spostamento e che quindi avranno una maggiore facilità. Stiamo lavorando ancora per grande collaborazione anche per altri luoghi e altri siti, siamo convinti che sia fondamentale l'organizzazione del vaccino e che si vada avanti il più spediti possibile e quindi sia a livello regionale che a livello locale e sulle indicazioni statali di avere una campagna vaccinale che sia la più efficace possibile, la più veloce possibile perché è questo che veramente ci permetterà di uscire da questa situazione di difficoltà. Ancora oggi i numeri sono numeri importanti, gli ospedali sono in una situazione comunque difficile perché continuano a ricevere e ci sono presenze sempre in questi giorni quindi dobbiamo mantenere sempre più la prudenza, il distanziamento, la mascherina e essere tutti consci che dobbiamo fare questo sforzo di zona rossa e di ulteriore sacrificio delle nostre abitudini quotidiane ma veramente come impegno che sia un impegno che permetta poi davvero di tornare alla quotidianità quindi un ottimismo che ci deve convincere che i sacrifici li facciamo, li facciamo a ragion veduta per arrivare a quella immunizzazione generale che ci permetta a tutti di riprendere gli spostamenti, di riprendere le nostre attività. La situazione dell'amministrazione da un punto di vista di attività in questi giorni è stata frenetica, abbiamo presentato i grossi progetti sul quartiere Isola e sul quartiere Centro Storico sono partiti i nostri fascicoli di candidatura per i finanziamenti, stiamo lavorando molto sul contratto del verde per portare la città a dei segnali davvero anche con l'arrivo speriamo della primavera, della bella stagione e poi di riprendere una vita che sia poi in una vita sempre più con una città gradevole che sia tale di darci una qualità della nostra vita soprattutto dopo che ci siamo liberati da questa situazione di difficoltà data dalla pandemia. Grazie a tutti! Grazie a tutti!